Ciao a tutti e tutte, benvenuti su Italiano Bello. Oggi c'è con me Clay che ci racconterà del suo percorso di studio non solo dell'italiano ma anche di altre lingue. Infatti Clay è un poliglotta e ho voluto invitarlo sul podcast per avere i suoi segreti e per capire quali sono i suoi consigli per studiare le lingue. Benvenuto. Prima di tutto Clay ti chiedo di dirci chi sei, dove vivi e tutto quello che vuoi condividere. Sì, mi sono Clay, sono nato a San Francisco in California, sono cresciuto lì. Non ho avuto una carriera, diciamo una carriera convenzionale. Ho fatto molte cose nella mia vita. Ho guadagnato da vivere suonando il violino nella strada in Europa per due o tre anni. Poi sono ritornato negli Stati Uniti e ho studiato l'antropologia all'università e poi stavo facendo ricerche a Damasco, in Siria, quando ho iniziato la guerra nell'ex Jugoslavia. Ho pensato che la vita da accademico non faceva più per me e ho deciso di provare di essere giornalista. Sono andato in Bosnia e ho cominciato a lavorare come giornalista. Ho lavorato molti anni da giornalista in vari paesi, occupandomi principalmente di guerre e conflitti. E poi un giorno mi sono accorto che ero un po' stanco, molto stanco fisicamente, eventualmente. Sono tornato negli Stati Uniti e adesso non faccio più il giornalismo, anche scrivo qualche articolo freelance ogni tanto. Vivo in una piccola città, una cittadina bellissima, tranquillissima tra le montagne nell'Ovest degli Stati Uniti. Ho una vita semplice, vivo da solo con i miei due cani. Che bello, grazie. È un percorso molto anticonvenzionale, come dici tu, ma bello, interessante. Hai fatto molti lavori, sei stato molte persone nella vita. Molto bello questo. Bellissimo. E non solo sei stato tante persone, hai indossato tanti cappelli come lavoro, ma anche nell'ambito delle lingue. Infatti mi hai detto che hai imparato tante lingue. Ci vuoi raccontare quante e quali lingue conosci? Sì, non so se posso rispondere alle tue domande. Innanzitutto, che cosa vuol dire conoscere una lingua? Ovviamente ci sono vari livelli, ma diciamo ho una fluidità funzionale in circa dieci o dodici lingue. E qual è quella che ti piace di più? Se si può scegliere. La mia lingua madre, l'inglese, mi piace moltissimo. Anche l'arabo, mi piace moltissimo parlare l'arabo, cioè il dialetto del Libano, della Palestina, della Siria. Ti è sempre piaciuto molto l'inglese o hai imparato ad amarlo conoscendo altre lingue? Sì. Imparando altre lingue ho riscoperto l'inglese. Che bello, molto bello quello che dici. Devo dire che anch'io lo sto scoprendo l'inglese, ma più lo imparo più mi piace. All'inizio avevo un po' di pregiudizi perché è la lingua globale, la lingua commerciale, però questo non significa che non sia una bella lingua e lo è. Poi c'è molta differenza magari tra l'inglese un po' semplificato che leggiamo in tanti libri o quello che parlano gli stranieri e l'inglese vero, quello degli americani o gli inglesi che è più ricco, più vario. Capisco quello che dici. Vuoi raccontarci magari come hai iniziato a imparare le lingue? Magari non tutte e dieci, però se vuoi soffermarti su alcune delle lingue che conosci e dirci perché hai iniziato a studiarle e come? Qual è stato il tuo approccio? Sì, il mio approccio. Ho imparato lo spagnolo a scuola, a San Francisco, quando ero giovane, e l'arabo a casa. La madre di mia madre parlava solamente arabo, non parlava inglese. Cioè ho potuto sentire l'arabo a casa. Già da giovane ho perso la paura da imparare una lingua e ho scoperto la magia, la libertà che ci dà imparare una lingua. Ma per me la cosa più importante è perdere la paura, perché per molte persone hanno paura di imparare. È un po' difficile spiegare. Sì. Se ricordo con me. Certo, e sono contenta che parli di questo argomento perché la paura, la vergogna, sono veramente dei blocchi importanti per tante persone che studiano le lingue. Quindi tu in realtà non hai dovuto lavorarci perché forse imparando altre lingue fin da piccolo hai capito che non c'era da aver paura e che era un gioco. Ti ricordi da bambino come vivevi il fatto di imparare o di parlare lo spagnolo, l'arabo? Per te era un gioco o era... sentivi un esame, sentivi di dover fare bene, sentivi che era l'unico modo per parlare con tua nonna? Ti ricordi come consideravi le lingue straniere da bambino? Per me era come un... avevo la sensazione di aver scoperto un mondo per me, un mondo che le altre persone non sapevano che esiste. Era il mio mondo segreto, segreto. Che bello. Quindi immagino che tu l'arabo l'abbia imparato all'inizio ascoltando, e invece lo spagnolo l'avrai imparato in modo più tradizionale a scuola? Sì, all'inizio sì. E poi invece hai cambiato metodo? Sì, ho scoperto da solo che memorizzare è molto efficace. Ho memorizzato poesia, dialoghi, tutto. E questo per me è stato una cosa... diciamo uno scoperto molto importante. E' interessante. Ognuno trova il suo modo. Non a tutti piace memorizzare, non per tutti viene facile. Però è vero, anche a me, per alcune lingue che ho imparato, ha aiutato tanto, soprattutto all'inizio, memorizzare. E forse è particolarmente facile farlo con le canzoni, no? Perché hanno una melodia, è più facile che resti in testa. Hai ragione. Quindi è un bel suggerimento. E invece, tra le lingue che hai imparato come autodidatta in età adulta, che approccio hai seguito? Quando hai deciso di studiare una nuova lingua, cos'è la prima cosa che hai fatto? Ho sviluppato, nel corso della mia vita, ho sviluppato molti trucchi, anche tu, senza dubbio. Però, per me, il punto di partenza non è un trucco. È l'idea che non esiste lingua straniera, non esiste una barriera tra me e la lingua che voglio imparare. L'idea che tutte le lingue del mondo appartengono a tutti. Capisci? Sì, un'apertura, un'apertura e sì, è bello quello che dici e lo capisco. Però dal punto di vista pratico, che cosa facciamo? Dal punto di vista pratico, tu hai scritto, ho detto in un podcast, ho usato la metafora di un fiore, una fiore con il cuore del fiore e i petali. Questo per me è perfetto, esattamente come io imparo, ad esempio con l'italiano naturale, per me il tuo corso è il cuore della fiore. Per me è importante avere una base e i petali possono essere qualsiasi cosa, un podcast, anche un podcast o un libro di un livello un po' difficile per me. Anche questo mi aiuta, però per me è sempre importante avere una base, qualcosa che puoi fare ogni giorno. Lo capisco bene, sì, anche per me vale la stessa cosa. Avere, come si dice in italiano, uno slancio. Perfetto, sì, uno slancio, sì, è anche una strada che possiamo percorrere, una struttura solida. Sì, vedo che per molte persone è così. Allora, la metafora del fiore di cui parlavi penso che sia nel corso Pronti, Partenza, Via. Quindi ricordo agli ascoltatori che potete iscrivervi, trovate il link qui sotto e lì parlo appunto anche di questo. E invece ho fatto un altro episodio del podcast in cui parlavo della metafora delle api e dei fiori, che mi ha suggerito una mia studentessa di latino. Sì. Che un po' va di pari passo con quella del fiore, perché invece che avere un fiore solo con tanti petali, tante persone fanno l'errore, secondo me è un errore perché disperdiamo la nostra attenzione, di volare un po' di fiore in fiore, un po' di qui, un po' di là, questo video su YouTube, poi questo podcast, questo libro. Sì, sì. Non è un problema di per sé, come dicevi tu, ascoltare podcast, leggere libri, ma per molte persone non è sufficiente. Cioè ci vuole una base, una base che può essere un corso, un corso online, un corso dal vivo, un libro di grammatica. Ognuno sceglie quello che preferisce, ma le persone che vogliono imparare una lingua solo guardando video, secondo me è difficile che ce la faranno. Magari qualcuno ci riesce, sicuramente ci sono persone che ci riescono, ma secondo me si aggiunge uno sforzo e del tempo inutile. E' vero che è più facile, è più facile dire ascolto un podcast, guardo un video, però è un ascolto più passivo. Va bene anche quello, però abbiamo bisogno anche di uno sforzo attivo, purtroppo. Sarebbe bello poter imparare solo ascoltando. Sì. E' anche possibile, per esempio, i bambini all'inizio ascoltano soltanto, però i bambini sentono parlare costantemente. A un certo livello. Esatto. E poi comunque anche loro iniziano a parlare, poi anche i bambini vanno a scuola e studiano la grammatica della loro lingua, quindi ci vuole, sì, anche secondo me ci vuole un po' di struttura. Sì, sì. L'apprendimento passivo può essere molto efficace, ma deve essere qualcosa, deve essere una base. Sì, sì, sono d'accordo. Perché hai deciso di imparare l'italiano? È una lingua di cui avevi bisogno o semplicemente avevi voglia? No, non avevo bisogno. Non so come rispondere. Ho sempre potuto capire un po' l'italiano. Per me l'italiano è un po' come la ragazza di cui ero innamorato da adolescente, ma non avevo mai il coraggio di parlarle. E poi gli anni sono passati e un giorno la ritrovo di nuovo e mi innamoro di nuovo. Ma non c'è un solo serie, non c'è motivo specifico. Quest'anno a gennaio stavo guardando una serie Netflix, una serie italiana, e ho scoperto con sorpresa che potevo capire tante cose. E allora mi sono detto, ora è il momento, adesso voglio imparare questa bella lingua. Hai fatto bene. Invece ci sono persone, per esempio anch'io, che se una lingua la capiscono già bene, magari dicono, ah non vale la pena studiarla. Tanto, per esempio, io faccio così con lo spagnolo. Visto che lo capisco perché è simile all'italiano, non ho mai iniziato a studiarlo, però vorrei farlo in futuro. Mi attirano di più magari le lingue un po' più diverse dall'italiano, però ovviamente è vero. C'è un tempo per tutto, magari anch'io un giorno riverdrò lo spagnolo e nascerà un amore. Chissà. Chissà, vedremo. Per me, ovviamente il fatto che parlo spagnolo e francese mi aiuta molto imparando l'italiano, ma ci sono anche piccoli pericoli, falsi amici, la struttura è così simile, ma è anche difficile separare le lingue. Per me, a volte quando parlo francese o spagnolo, sto cercando di imparare l'italiano, mi sembrano tutti i dialetti di una lingua. Il latino. Il latino parlato. Ti aspetto nel mio corso di latino. No, scherzo, però è vero, sì, sono lingue molto simili. Quando ho iniziato a imparare l'italiano quest'anno, all'inizio mi sembrava, mi sono detto, ah, questo è un dialetto latino molto interessante. È vero, è vero, che bello. Mi piace questo approccio. Certamente una persona che conosce già tante lingue, è chiaro che avrà più facilità ad aggiungerne altre. Quindi forse i primi, per esempio le prime lezioni del corso, magari ti sono sembrate un po' facili, no? Sì, sì, ma nonostante ciò, è molto utile per me. Sì, poi a volte magari diamo delle cose per scontate, pensiamo di saperle, magari perché già capiamo la lingua, però comunque studiarle o sentirle raccontate da un insegnante può essere diverso, perché magari qualcosa ci sfugge, oppure come dicevi tu, ci sono i falsi amici. Nel caso dell'italiano, quindi, il cuore del tuo fiore è il mio corso, Italiano Naturale. In altri casi, con altre lingue, qual è stato il tuo cuore? Hai sempre seguito corsi o hai provato anche con altri metodi? Sempre corsi, cioè libri di grammatica. Anche da autodidatta, diciamo? Sì, sì, sempre. Non sempre insegnanti, ma anche libri? No. Ho capito. Bene. Non c'era l'insegnante. Non c'era, eri tu l'insegnante. E invece perché per l'italiano hai voluto cambiare e non hai voluto studiarlo da autodidatta? Domande difficili oggi. C'è una cosa nuova che si chiama internet, che rende più facile, ma ho scoperto, non voglio farti troppi complimenti, ma ho scoperto il tuo corso e mi sono detto questo è un... Ho pensato che il tuo approccio, la tua filosofia di imparare una lingua e di insegnare è esattamente come il mio approccio. Sì, lo capisco. E mi sono detto questo è il corso per me. Bene, sì, lo prendo il complimento, grazie. Sì, lo capisco. A volte a me è capitato di iniziare a studiare una nuova lingua un po' per caso, perché magari ho trovato un podcast, un insegnante online che mi piaceva tanto e quindi più che la lingua ho scelto l'insegnante, ho scelto l'approccio. E quello che a me piace, forse è lo stesso anche per te, sì, mi piace imparare le lingue, ma mi piace tanto anche il modo in cui le imparo, il modo in cui vengono insegnate, quindi mi è capitato di seguire degli insegnanti perché mi piaceva vedere come insegnavano. E quindi poi imparare la lingua è una, come si dice, una conseguenza. È qualcosa che capita, ma non è la prima cosa che ho ricercato. Che bello, interessante, grazie. Penso che questo episodio darà delle ispirazioni a molti ascoltatori. Svegliamo. E voglio dire agli ascoltatori, non preoccupatevi, è possibile imparare l'italiano anche senza sapere già dieci lingue. Si può partire da zero e ognuno ha il suo percorso. Infatti anche in italiano naturale ci sono persone che partono da zero, persone che magari hanno già studiato l'italiano, persone che hanno cominciato da sole, quindi ci sono tanti percorsi, ma tutti possiamo riuscirci e penso che il consiglio, l'insegnamento più prezioso di questa intervista sia quello di cui hai parlato all'inizio, Clay, della paura, di vincere la paura e lasciare da parte questa paura che proprio non ci aiuta e ci fa perdere anche un po' di divertimento. Quindi grazie, grazie mille per questa intervista. Grazie a te, è stato un piacere.